Si sa, il lavoro è fondamentale, lo sappiamo tutti, senza lavoro non si può mangiare, si può bere, non possiamo comprarci il cellulare, il telefono, lo smartphone, il iphone, il computer, una tastiera, un mouse, una serie, una casa, non possiamo fare nulla. Eppure esistono persone in questo mondo addirittura che preferiscono non lavorare. E' il caso di una ragazza di 19 anni che si chiama Luigi Webster, tiktoker abbastanza famosa, con dei video contenuti spesso e volentieri provocatori, altezzoni, diciamo così. E questa ragazza di 19 anni ha creato per anni un po' di tiktok, che avrebbe rifiuto attraverso un video pubblico su tiktok di volere andare a lavorare e non se ne parla poco. Sono troppo bella, infatti, io, ragazza di fanciulla di 19 anni, per alzarmi alle sette del mattino e andare a lavorare. Ecco, gli utenti vedendo questo video, molti sono letteralmente arrabbiati in un po', mi sono scatenati in mettere il nero su bianco, nel dire alle ragazze in questione che non può avere un atteggiamento del genere. Sei una ragazzina presurrosa. Le parole che molti hanno pubblicato sul web. Eppure, però, adesso ve lo riferisco, aveva, diciamo, creato, ha creato, ovvio, scherzoso, perché era quello, forse, l'intento di creare, volete, creare, diciamo così, momenti di cattivezza, va bene? E così si riuscìva. A tirare la sera a pensione, molti di pochettiani hanno parlato, per quello diventato virale del web. Vi ringrazio per l'ascolto, non si può scherzare su questi argomenti. E molti sono stati, infatti, gli utenti che ricevano creduto. E hanno detto a questa ragazza, smettila a fare la vita. La narratura italiana è in tutto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Un saluto alle carole a voi e al prossimo video.